Il diavolo entra dalle tasche. Primo viene il denaro, l'amore al denaro, l'affanno di possedere. Poi la vanità. Io sono ricco e mi vanto di quello. E alla fine l'orgoglio e la supervia. Non rubare vuol dire ama con i tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per amare come puoi. Allora la tua vita diventa buona e il possesso diventa veramente un dono, perché la vita non è il tempo per possedere, ma per amare.